Dopo un inizio con un po' di tensione, come si ritrova, un po' che si sciolta e si tratta di un po' la gara. Sì, diciamo che un po' di concentrazione anche perché il caldo è stato un po' di... Poi, dopo 10-15 minuti, abbiamo preso l'unione e l'importante è che, comunque, si provava da parte di tutta la squadra per questo gioco. Ha potuto essere la prima partita, l'ufficiale lega in prima divisione, ci siamo, penso, in alcuni punti belli. Questa è una partita equilibrata, hanno attaccato l'ora che hanno attaccato l'ora, ci sono un'altra partita. Penso che è divertente in questo gioco. Anche la partita è un po' che 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 è un po'. Non in quanto è un po' che è un po' che è un po' di corpo, diciamo, itмуver ubico, è un po' che è un piac Risk. Sì, l'opportunità di farvi, mi sono passato qualche minuto, che tenevo a finire la partita. E invece Tanti ti è un po' di più che nonostavo, ma nonostavo. Ah, mi piace a te, ma ci piace. Penso sia un donna morto, mi fa questo bene, come si parla. Ah, ecco, perché non avevamo visto il contratto, perché ha visto che non gli ho tenuto... Ah, stai attivati come sempre. Eh, ecco. Grazie. La seconda domanda, questa camera non era molto contesti dall'altra sinfona. A vista il partito, prima, non era molto solo spazio della mia casa. Diciamo che siamo in obiettivati a fare la dottaccia. Abbiamo il contratto di straordinario, di coordinare la qualità. Tutta la spazio, c'è un granissimo per l'uomo. È un valore, secondo me. E sicuramente troviamo un valore per quello che possiamo fare qui. Ma questo, insisto, va bene. Ci sentiteci bene, abbiamo attaccato. In qualche anno piano comincieremo a far vedere anche il nostro lavoro. Grazie. 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 Grazie.